Santuari di notte e di giorno. Stavolta abbiamo voluto titolare così questa nostra rubrica Maneno Biscum. Santuari di notte per una iniziativa e una proposta che è molto simpatica e anche interessante e di giorno. Ovviamente i santuari sono sempre aperti e quanta gente che accede a questi luoghi di devozione, di preghiera, anche un po' di riposo spirituale, di relax, se volete utilizzare questa moderna parola. È vero che la faccenda di cui parliamo ha già avuto luogo. Oggi siamo il fine settimana del 3-4 luglio, ma nella notte del primo di luglio, giovedì scorso, al santuario di Stezzano vicino a Bergamo, il Vescovo ha voluto dare inizio a una proposta che poi si pensa potrebbe estendersi a tutti i santuari della Diocesi e non solo, perché la proposta poi è addirittura a livello nazionale che è stata chiamata la notte dei santuari. La notte dei santuari perché si invitano tutti i luoghi appunto che ospitano queste realtà devozionali verso la Madonna, i santuari appunto, a dedicare una notte di incontro e di preghiera. Addirittura con dei segni visibili che rendono anche evidente questa chiamata, una porta santa, se vogliamo chiamarla così, cioè un ingresso un po' più solenne, l'accensione di una lampada che dica appunto il segno della presenza e di una presenza orante e poi insieme con la celebrazione di ingresso nella notte, il fatto che durante tutte le ore notturne ci sia tempo di preghiera, magari anche di adorazione eucaristica, di orazione attraverso la meditazione dei misteri del rosario e così via fino al mattino, fino all'alba del nuovo giorno. Ecco Don Giovanni, un pochettino lo spirito di questa iniziativa posta un po' in consonanza con quella che il Papa ha voluto durante il mese di maggio quando tutte le sere da uno dei diversi santuari mariani del mondo è stata fatta la preghiera del rosario e aveva un suo bel motivo, il Papa gliel'ha dato. Credo che la Chiesa italiana con questa proposta voglia riprendere un po' questo voler aiutare a darci delle opportunità di respiro perché quella che è una realtà che sembra aprirsi in modo positivo possa aprirsi a tutti i livelli è una speranza nuova. Beh la Chiesa è sempre in divenire quindi ogni anno cerca di fare delle proposte al popolo del Signore per avvicinarci di più al Signore quelle che sono le sue proposte. Di solito di notte sono aperti altri santuari, sono aperte discoteche, bar, un tempo si faceva la notte della luna e altre cose. Adesso una bella iniziativa quella di aprire i nostri santuari anche perché qui, beh in Italia ma anche in Bergamasca sono tantissimi e spero che siano delle grandi occasioni per frequentarli prima di tutto perché non so essendo il primo anno quanta persone vengono perché c'è anche poi il rischio che queste iniziative lanciate così belle che restino deserte ma di solito trovano sempre persone che hanno a cuore prima di tutto il desiderio di onorare Maria Santissima, il desiderio di chiedere a lei luce in questi tempi belli ma un po' difficoltosi e magari a volte anche di capire il senso della sua presenza nella Chiesa. Pensiamo ad esempio a fenomeni anche oggi come Meggiugorri e altre cose che restano sempre dei punti positivi nella devozione, nella fede, nella crescita speriamo anche del popolo cristiano. Certo il pensiero poi che questa iniziativa potrà essere ripresa in tutti i vari santuari e sarebbe veramente un'occasione bella soprattutto durante il periodo estivo dove magari anche persone che hanno la possibilità di vivere qualche momento di sosta nella villeggiatura, nel passaggio turistico eccetera possono magari ritagliarsi qualche ora che risponda proprio al senso di questa proposta che ripeto da respiro e vorrebbe dare respiro un po' alla nostra speranza. Tra l'altro tu dicevi Don Giovanni i tanti santuari che ci sono nelle nostre terre, io penso qui tra di noi, le terre bresciane, le terre bergamasche, le nostre valli eccetera, con delle caratteristiche anche diverse sia come origine, sia come proposta di tipologia di preghiera, sia come anche titolo che viene da ogni santuario dato a Maria Santissima. C'è una varietà veramente di situazioni che è impressionante ma che rende bella la ricchezza di questi luoghi di devozione. La Madonna è sempre quella però a secondo dei posti o delle proposte o delle situazioni gli hanno dato un nome diverso nelle nostre valli, quanti santuari ecco ci sono. Penso che siano veramente delle grandi occasioni anche se purtroppo noi siamo passati, forse anche Teduleone, eravamo da una chiesa trionfalistica dove c'erano questi santuari con grandi funzioni, messe, cantate, specialmente in occasione degli anniversari e delle apparizioni. Poi a una chiesa così piena di novità, si leggeva in questi santuari la parola di Dio, si suonavano le chitarre, c'erano attorno anche a volte delle sagre, delle feste con la banda e altre cose. Adesso è un po' una chiesa, un po' dell'indifferenza dove sembra che la gente insomma a questo banchetto del silenzio, della riflessione, della fede sia un po' digiuna. Però sono tutte iniziative, non si sa mai, dove la Madonna, che è una mamma e quindi veramente viene incontro alle esigenze dei propri figli, potrà dare delle cose belle. Prima di tutto penso che sia una cosa giusta come fai te informare almeno di questa iniziativa perché tanti di noi non ne sono a conoscenza oggi. La pubblicità è l'anima del commercio, a volte anche della fede perché se non si conoscono penso che tanti dicono, ah sì cosa fanno, hanno aperto anche la chiesa, è successo qualcosa, non so, magari è saltata la corrente, c'è stato un incendio. Quindi informare sulla data, il senso e che cosa si volebbe ottenere con queste iniziative penso sia molto importante. Tra l'altro appunto penso tanti i nostri santuari, non è che necessariamente ci sia stata un'apparizione, diciamo così, della Madonna. A volte le modalità appunto con cui sono nati questi luoghi, queste edicole, che poi sono diventate magari addirittura chiese grandi, vengono da storie diverse mi pare. Da storie diverse, molte volte dalla grande devozione. Pensiamo ad esempio a luglio perché c'era la famosa visita che sono spostato liturgicamente, di Maria alla cugina Elisabetta, quindi lì il 2 luglio quante apparizioni. Però chissà, tanto è vero che anche quando è venuto San Carlo Borromeo ne ha abolite tantissime perché erano storie che non avevano dei documenti validi, si basavano solo sulla tradizione orale. Comunque certamente tutto questo dice il grande affetto che il popolo di Dio ha verso Maria Santissima, verso la spiritualità, anche perché poi in un santuario molte volte ci si mettiamo di fronte alla Madonna e la Madonna ci dice guarda che la speranza è Gesù Cristo, fate quello che Lui vi dirà. Quindi va bene il ricordino, va bene la candela accesa, va bene magari a volte anche l'escursione, va bene la chiacchierata con gli amici dove c'è anche il santuario perché non so se ti noti qualche volta vanno dentro, guardano un po' in giro, accendono una candela poi vanno. Ma il santuario Paolo VI l'ha chiamata la clinica dello spirito, quindi veramente dove uno guarisce dentro. Insomma c'è modo e modo. Mi viene sempre in mente il Vangelo di due domeniche fa quando c'era una ressa attorno a Gesù, una ressa da stadio ma solo una donna l'ha toccato con fede. Quindi anche andare al santuario non è che automaticamente cambia tutto, dipende, Signore è lì, la Madonna è lì, però dipende da noi come ci avviciniamo e cosa abbiamo in testa. È bello quell'accenno che tu hai fatto al fatto del 2 luglio, festa un tempo della visita di Maria Santa Elisabetta di cui si legge appunto nel Vangelo. Io penso, anche solo nella nostra zona, quando penso rovetta, quando penso colere, quando penso la Madonna di Gorno della Val del Riso, eccetera, festeggiano tutti i santuari il 2 di luglio, probabilmente proprio perché c'era questo legame col fatto della visita che Maria Santissima ha fatto a Elisabetta. Non è allora che forse i santuari ci ricordano il fatto che sia apparsa o non apparsa, che la presenza sia segnata da una realtà piuttosto che da un altro fatto, eccetera. Tutti però questi luoghi ci ricordano che la Madonna visita costantemente, accompagna la nostra vita e la nostra storia come buona madre. Credo che sia un po' qui il significato forte. La Madonna come mamma ci accoglie, ci aiuta, si prende cura di noi. Non so, anche adesso continuamente tutte queste rivelazioni, chi ci crede, chi non ci crede, anche che vengono poi riferite anche da Radio Maria. Comunque sono tutti messaggi che prendono spunto da un fatto che la Madonna non si disinteressa degli uomini, ma si prende cura di ciascuno di noi, ci aiuta. Poi ci suggerisce le cose che di per sé sono già nel Vangelo, quindi veramente queste sono cose importanti, perché la Madonna non ci dice mai niente di quello che già Gesù ci ha detto. Avevano ragione quei famosi mistici del Medioevo che dicevano ormai noi non dobbiamo chiedere più niente né a Dio né a Gesù né alla Madonna, perché tutto quello che avevano da dirci, ce l'hanno detto, sta a noi capirlo, ascoltarlo e viverlo. Quindi praticamente la Madonna, per chi ci crede, anche adesso continua a ripeterci sempre le stesse cose che sono scritte nel Vangelo. Ecco, speriamo che come mamma abbia anche un po' di compassione di noi, perché tante volte lo sappiamo quello che dobbiamo fare, ma poi ci troviamo a fare delle cose che non sono secondo quello che dice Gesù. Ecco allora il santuario che viene aperto di notte, questa iniziativa appunto che passerà, speriamo, nei vari santuari anche delle nostre zone. I santuari che sono aperti ovviamente all'accoglienza di giorno e che dicono appunto di Maria Santissima che accoglie i suoi figli, che visita la nostra vita, la nostra casa un po' per guarire, un po' per consolare, un po' per sostenere eccetera. In effetti se pensiamo un po' anche nel corso dei tempi, le persone e a volte se ne leggono alcuni racconti anche toccanti che vanno in silenzio, in raccoglimento, magari con il cuore tante volte ferito da tante situazioni che accedono alla porta del santuario con questo atteggiamento di fiducia. Ma difatti sempre nella storia la Madonna viene o per guarire qualcuno, pensiamo alla Madonna del Frassino, pensiamo alla Madonna di Altino, quinto foglio, con i suoi due figli che avevano sete, arrivano di sete, qualcuno dice potevi andare giù alla valle che c'è il fiume, no? La Madonna che viene lì fa sgorgare l'acqua che ancora oggi tu puoi vedere e confrontare. Perlomeno diciamo così che il Signore che non dice vi ho creato arrangiatevi, è un Signore che si prende cura e manda la Madonna, i Santi, la Sua parola e tanti eventi per dire che il Signore ci è vicino, ci accompagna e a volte proprio anche attraverso queste forme semplici e umili perché non tutta la gente ha fatto teologia o ha studiato chissà che cosa. Il Signore si rivolge a tutti e le persone sono diverse, a volte qualcuno proprio ascoltando queste cose, vedendole, pregando e la loro vita diventa anche più felice, più bella perché lo scopo di andare anche a un santuario non è solo per fare un pinnico, per visitare quelli che sono gli affreschi o vedere un po' magari di andare al ristorante vicino per mangiare, ma è quello un momentino di trovare una consolazione profonda alle grandi domande della vita che oggi magari rimandi, però diciamo che sono al mondo a fare, che senso ha quello che mi succede, ma il Signore cosa mi sta chiedendo? E in questi luoghi di silenzio magari uno riscopre le risposte vere, ecco, quelle confezionate, la vera rinascita, non quella che si parla in televisione dalla pandemia, che non so perché rinasciamo a che cosa, ma la rinascita vera e la rivoluzione vera è quella che cambia la nostra vita e ci dà occhi diversi, mente diverse per guardare la nostra situazione e quella del mondo. In effetti dai grandi santuari, Fatima, Lourdes, eccetera, ai piccoli ma significativi santuari delle nostre terre, Maria Santissima che è madre e ci è stata donata dal figlio suo Gesù stesso a noi, con quell'espressione che poi leggiamo nel Vangelo, fate quello che Lui vi dirà. Cioè in fondo anche qui sappiamo di certe forme anche di devozione mariana un po' distorte, ecco, che sembrano portarci fuori invece che portarci a, ma la Madonna è madre di Gesù Cristo, quindi il suo intento non è di sequestrarci ma di orientarci, fate quello che vi dirà, credo che sia un pochettino il senso vero dell'andare un po' anche ad attingere a un santuario mariano. Diciamo una parola grossa, la vera devozione a Maria è cristologica, cosa vuol dire? Mette al centro Gesù Cristo. Se tu vai a dire Maria di qua, Maria di là e poi non ascolti il suo figlio, è una delusione. Lei alle nozze di Cana ha detto a quei due sposini in difficoltà, fate ecco quello che Lui vi dirà. Il Signore ci dà sempre il meglio, però non subito, perché a volte ci fa capire, ma sempre il meglio di quello che noi dovremmo avere nella nostra vita. A volte non lo capiamo subito, ma col tempo diciamo hai fatto bene il Signore a farmi questo regalo e ti ringrazio, perché al momento non l'ho capito, ma probabilmente era l'essenziale per la mia vita oggi e poi la Madonna presente, non ci pensiamo più, anche l'aldilà, la vita eterna e quindi lei ci dà il meglio di una mamma. E qui viene fuori probabilmente andando a chiudere anche il significato vero della preghiera del Rosario, che sembrerebbe essere una cosa strana a tanti, barbosa eccetera. In effetti, a volte l'abbiamo detto, più che una preghiera alla Madonna, è un cammino con la Madonna, è un cammino dove proprio dentro queste dinamiche della vita di Gesù, dentro i Suoi momenti forti, perché possiamo essere coinvolti lì, ecco il Rosario forse va un pochettino ripensato, oltre che pregato in un certo modo e non con la frettolosità tante volte, ma diventa un momento di meditazione che fa bene alla vita perché ci fa scoprire quelli che sono un po' le radici anche della nostra fede, che danno poi senso anche alla nostra speranza. Il Rosario è ripetere 50 volte le stesse cose, come quando uno è innamorato, dice ti voglio bene, ti voglio bene, ma ma ti voglio bene, guarda di qui. Quindi dentro il cammino del Vangelo, i misteri sono il Vangelo, il Padre Nostro che è la preghiera che Gesù ci ha insegnato per amore, e l'Ave Maria che è parte di preghiera dell'Angelo e parte della Chiesa. E dentro qui cammini insieme, stai un po' insieme con la Madonna, perché tu ti renda conto di quello che dovresti davvero fare e una cosa fra tante, che dovresti ringraziare sempre Maria Santissima di essere tua madre, tua amica e madre anche di tante persone, quindi chi aiuterà anche gli altri. Però più che essere, diciamo così, una tiritela, un ripetere da pappagali, sempre le stesse cose, è un cammino con la vita di Maria, di Gesù, che naturalmente dovrebbe rispecchiare poi anche la tua vita, perché se lei, se Gesù ha fatto così, se vuoi star bene, se vuoi essere un uomo felice, cerca anche tu di fare così. Ecco, estate, estate è forse occasione proprio per una sosta, anche in questi luoghi, in questi santuari. Fa bene al corpo un momento di riposo, di sosta? Fa bene di sicuro allo spirito? L'intento è che faccia bene appunto alla nostra speranza, di questa, come tu dicevi, rinascita, che non è soltanto, è molto importante, la guarigione e la preservazione del corpo, ma è, come accennavamo altre volte, la guarigione della mente, la guarigione dell'animo e la guarigione dello spirito, che è poi quello che dà significato a tutto il resto. E allora ecco perché abbiamo accennato a questa opportunità dei santuari aperti di giorno, ma anche a questa iniziativa di un santuario che aprirà e tutti lo possono fare, quindi eventualmente parlatene anche nelle nostre comunità, dove c'è un santuario, grande o piccolo che sia, una cappella dedicata alla Madonna, perché ci sia questa notte del santuario, dove nella notte forse si riesce a trovare un momentino di maggior pace, dove nella notte ci si fa pronti a percepire che ci sarà un'alba, dove nella paura, nelle trepidazioni, si va ad attingere che c'è un orizzonte, e che c'è una speranza che Maria Santissima ci indica e che è il figlio suo Gesù Cristo. La notte e i giorni dei santuari. Grazie a Don Giovanni della tua testimonianza, grazie a voi che ci avete seguito, come sempre, l'augurio di una buona domenica.